Conquista un uomo creando un legame fisico. Allora, diciamo che per il maschio c'è lo sviluppo dell'ossitocina, non è facendo sesso, facendo l'amore, ma è attraverso il contatto fisico, tipo il massaggio, le coccole, eccetera. Ovviamente non è che puoi andare a massaggiare uno che non conosce neanche, però puoi sfruttare questo concetto per creare un legame fisico e conquistarlo, farlo innamorare in modo subliminale, in modo molto vicino, creando l'avvicinanza, il contatto umano. Sembra strano, ma gli uomini si seducono con il contatto umano. Quando entri in contatto con un uomo che lo conosci, cerca il contatto fisico, una mano sulla spalla, sfiorargli un braccio, cogli l'occasione, diciamo, di toccarlo, di entrare in contatto fisico quando parli con lui. Questo è un modo sottile, diciamo, per conquistare un uomo, perché apparentemente sono gesti innocenti, però questo contatto fisico, questa vicinanza, questo essere accogliente, andrà a stimolare in lui in modo totalmente subliminale, cioè di sotto della storia di coscienza, andrà a stimolare in lui la produzione di ossitocina, che è l'ormone che è, diciamo, il neurotrasmettitore dell'innamoramento. Cioè lui percepirà, inizierà a percepire che tu potresti essere la donna giusta, inizierà a percepire di essere innamorato di te. Ovviamente devi anche imparare, diciamo, a riconoscere i segnali del corpo maschile, in modo tale che tu potrai riconoscere in tempo reale, e vai a vedere tutti i video che ho fatto, i segnali di gradimento, in modo tale che lui praticamente sarà estremamente, come dire, coinvolto. Quando capirai che c'è un coinvolgimento, che si è creato un legame, allora potrai iniziare a mettere qualche vincolo, i vincoli sono le condizioni che faranno sì che piano piano il coinvolgimento andrà a crescere, andrà a diventare sempre più forte, sempre più grande. E vedrai che le cose miglioreranno tantissimo e diventerai una vera e reale seduttrice. Seguimi su YouTube, ovviamente Massimo Terramasco e anche il nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Terramasco, ma sulla pagina Instagram Massimo Terramasco Ufficiale e naturalmente anche su TikTok e su tutti gli altri miei canali YouTube. Felicità, benessere, amore, autostima, crescita personale con Massimo Terramasco. Ti do appuntamento al prossimo video, ciao!